Un filato che sicuramente stupirà per la sua innovativa struttura. Tra un aspetto vrileo e un casentino molto esposto. Accompagnato dall'aspetto peloso dell'alba caffine, quest'articolo certificato GRS ha titolo 1840 e si lavora sulla finezza 3. Sicuramente sarà protagonista da solo di lavorazioni espressamente rovesce che si avvarranno di volumi ampi e innovativi, di alternanze di aspetti, diventerà sorprendente partner di accessori inusuali. Con un minimo di chilogrammi 16 si realizzeranno i colori di cartella che non sono segnalati pronti.